A questo punto io direi che si può cominciare. Allora, condivido lo schermo e uno di voi mi dovrebbe dire se si vede lo schermo. Sì, perfetto. Ok, grazie mille. Allora, questa è la terza lezione e oggi approfondiremo il discorso che riguarda il famoso effetto tecnico di cui abbiamo parlato negli giorni scorsi e qual è lo strumento che viene utilizzato quasi sempre per vedere se c'è l'attività inventiva o meno nella nostra domanda di breve. Allora, questo metodo si chiama Problem-to-Solution-Approach. È in vigore presso l'Ufficio Verità Europeo e ogni volta che bisogna determinare l'attività inventiva si ricorre a questa tecnica. E ci sono cinque punti fondamentali in questa procedura. Il primo punto è Closest Prior Heart. Poi ne vediamo nel dettaglio tutti e cinque. Cioè, individuare qual è il documento di tecnica nota più vicino, più rilevante. Quali sono le differenze fra quello che viene chiamato Subject Matter, cioè, diciamo, la nostra rivendicazione che stiamo esaminando per vedere se ha o meno l'attività inventiva. Quindi, quali sono le differenze fra il Subject Matter e la Closest Prior Heart. L'effetto tecnico ottenuto da tali differenze. Quale problema tecnico viene risolto. E fino a qui non c'è possibilità di dubbio, perché si fa un confronto e si vede se c'è qualche differenza oppure no. E di conseguenza, se ci sono, quale problema mi hanno risolto queste differenze. Al punto cinque, e invece quella sempre più delicata, che ognuno la può vedere a modo suo, è la soluzione proposta nel Subject Matter. Era ottenibile da un tecnico esperto del ramo in modo ovvio, oppure era ottenibile in conseguenza di uno sforzo inventivo? Allora, se è conseguibile in modo ovvio, non c'è attività inventiva. Se c'è stato uno sforzo, c'è attività inventiva, però questo qui, mentre i punti da uno a quattro non è possibile discutere, o ci sono le differenze o non ci sono, e quali differenze ci sono è evidente, nel punto cinque è un po' più soggettiva la cosa. Allora, ancora un passo indietro. La closed-ex-private generalmente la individua l'esaminatore quando redige il rapporto di ricerca. Sono i famosi documenti indicati con D1, D2, D3, eccetera. In genere, la closed-ex-private è il documento che l'esaminatore nel suo rapporto di ricerca chiama con D1. Allora, io, come per le lezioni precedenti, vi presenterò tre casi differenti in cui andiamo a vedere cos'è questo effetto tecnico e se c'è attività inventiva oppure no. Allora, il primo caso che vedete su in alto è una domanda internazionale molto recente, pubblicata nel 2023, e si riferisce a un macinino. Ora, qui è tutto in inglese, anche perché l'esaminatore scrive in inglese anche quando fa il rapporto di ricerca per un brevetto italiano. Però, fra le figure e minimo di spiegazione, anche chi non è ferrato nell'inglese, penso che possa seguire tranquillamente questo ragionamento. Quindi, qui si parla di un coffee grinder, un macinacaffè, con il controllo della quantità dispensata in ogni dose del caffè macinato. Questa è la figura. Qui ci sono i numerini di riferimento. Ad esempio, il numerino 4 è questo, il gruppo di macinatori. Allora, la rivendicazione 1, io l'ho suddivisa in due o tre slide per farvi capire una cosa. L'oggetto è un macinacaffè che comprende vari elementi. Cioè, il motore elettrico, questo gruppo grinders, che sono azionati dal motore elettrico e sono alloggiati all'interno di una camera di macinazione numero 5, una tramoggia 6, che è questa qua su, un canale di distribuzione, che è il 7, e un microprocessore, che è il 17, che è qua sotto. Andando avanti, a leggere la rivendicazione 1, ci sono dei dettagli ulteriori. Quindi la tramoggia qui è per alimentare i chicchi di grano verso la camera di macinazione. Il canale di distribuzione serve a spostare i grani di caffè macinati verso un certo elemento 8, che era questo qua giù. E poi veniamo al punto, al microprocessore. Il microprocessore che controlla il funzionamento del motore per ottenere una quantità target desiderata di caffè macinato all'interno del tenitore del filtro, dove questo microprocessore, e qui veniamo alla parte che riguarda il software, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera, finora non ha tutti elementi fisici presenti all'interno del macinacaffè, qui si arriva al microprocessore che contiene un control firmware in forma di un coffee grinder management software, quindi qui si parla di firmware e di software, che codifica le istruzioni per far sì che questo microprocessore lavori, ed esegue le seguenti azioni. Come vedete, questa rivendicazione 1 è molto lunga, e fino a qui, prima di caratterizzare in let, sono tutte, fanno parte di quello che si chiama il preambolo della rivendicazione, cioè tutto ciò che era già noto prima. Comunque le tre azioni, le tre fasi erano determinare un periodo di attivazione del tempo, attivare il motore elettrico, azionare l'interruzione del motore elettrico, quindi tutto questo era già noto, catalizzato dal fatto che, quindi secondo noi questa è la rivendicazione, questa è la parte caratterizzante, la parte nuova della rivendicazione 1, la determinazione dell'attivazione del motore elettrico del periodo comprende una fase di calibrazione opzionale, poi vabbè, lo leggeremo poi in dettaglio dopo, e poi dice, in cui questo macino a caffè è in grado di operare alternativamente tra due modalità, una prima modalità per regolare il periodo di attivazione del motore elettrico, e una seconda modalità in cui certe fasi avvengono in automatico rispetto al peso desiderato. Comunque, c'è tutto il preambolo, c'è questa parte caratterizzata dal fatto che, e in più ci sono due modalità. Allora, tutta questa è la rivendicazione 1. Il documento di Private Art più vicino, la Closest Private Art, indicata dall'esaminatore come D1, è questo brevetto americano, dove c'è una prima figura, dove schematicamente ci sono sostanzialmente tutti gli elementi fisici che avevamo visto nella rivendicazione 1 del nostro brevetto, quindi la tramoggia, la parte che macina il caffè, il canale di distribuzione, eccetera, eccetera, e poi c'è questo Operation Circuit 38, che in dettaglio viene descritto qua, e dove c'è un controllo di circuito, un meccanismo di macinazione, e quindi questo, il microprocessore, quindi questa è tutta la parte elettronica associata a questo dispositivo. Quello che dice l'esaminatore è che D1 viene considerato come il documento di Private Art più vicino al Subject Method della rivendicazione 1, quindi l'argomento trattato dalla rivendicazione 1, e divulga un macinino 20 che opera con un metodo per controllare la quantità di caffè dispensata per ogni dose di caffè macinata, che comprende, e qui riporta, gli elementi fisici che facevano parte del macinino che io ho indicato nella rivendicazione 1, con tutti i numerini riportati in questo brevetto americano. Ad esempio, la tramoggia qui è indicata con 22 e 24, il gruppo di macinatori con 30, se facciamo un passo indietro, la tramoggia è questa qua, 22 e 24, qui ci sono i gruppi di macinatori, il canale di distribuzione è 34, e si trova qua, il microprocessore è 36, e si trova, 36 è questo qua, che si trova all'interno di questo che è operation circuit indicato genericamente con il numero 38, e che comprende tutti questi elementi. Quindi tutte queste parti sono già presenti in D1, in D1 è anche presente quello che avevamo indicato nel preambolo della rivendicazione 1, riferito al microprocessore, in cui c'erano certe fasi, determinare, attivare il motore elettrico e interromperlo, in cui c'era, se vi ricordate, passo indietro, quando qui nella rivendicazione 1, l'ultima fase, le ultime caratteristiche del preambolo, cioè che io, che ho scritto la rivendicazione 1, pensavo che fossero tutte quelle note, le ultime erano queste tre fasi qui, A, B e C. Da qui in poi, secondo me, era nuovo. Viceversa, l'esaminatore dice che quel D1, oltre ad avere tutte le parti, la tramoggia, il canale di distribuzione, eccetera, eccetera, oltre ad avere il microprocessore che esegue queste tre fasi A, B e C, mi dice che era anche noto queste ulteriori parti che io avevo indicato nella parte caratterizzante dell'invenzione, inclusa la prima modalità per regolare il periodo di attivazione del motore elettrico. Quello che mi dice l'esaminatore è che quello che non è presente in D1 e quindi quello che determina le differenze tra subject matter e D1 è questa parte qua. Dice, inoltre, la subject matter della rivendicazione 1 si differisce dai macinini noti in quanto è in grado inoltre di operare alternativamente nella seconda modalità per regolare l'attivazione del periodo, eccetera, eccetera. Quindi, in D1 l'unica cosa che non è stata messa è questa seconda modalità. Praticamente, in D1 opera solo nella prima modalità che io ho indicato, non opera nella seconda modalità. Una volta che ho stabilito queste differenze tra subject matter e D1, sono in grado di dire qual è l'effetto tecnico che ha prodotto queste differenze e in pratica l'effetto tecnico è quello l'effetto tecnico e questa caratteristica distintiva è che il microprocessore riceve automaticamente il peso misurato mediante un dispositivo di peso esterno. Ora, questo effetto tecnico lo si deduce praticamente solo una volta che io ho individuato le differenze. Io nella mia rivendicazione pensavo che le differenze fossero anche che il microprocessore permettesse di operare in questa prima modalità. Quindi, io avrei potuto pensare che il mio effetto tecnico fosse un altro mentre invece l'effetto tecnico si stabilisce solo una volta che ho stabilito le differenze con la priorità più vicina. Quando ho individuato queste differenze mi chiedo a cosa servono queste differenze che ho inserito, a cosa mi producono queste differenze tra la mia rivendicazione e la prior art. e quindi solo a quel punto riesco a capire l'effetto tecnico di questa mia nuova caratteristica. E il problema tecnico affrontato è collegato al 100% all'effetto tecnico e quindi quello di provare una fase di calibrazione automatica. Ora, l'esaminatore cita anche un documento di 2 di tecnica nota, questo brevetto americano dove c'è di nuovo il macinino e dove c'è sempre un controller. Ora, siccome secondo l'esaminatore il documento di 2 divulga un macinino simile al mio che ha un dispositivo di peso separato che è l'elemento 60 che è qua però comunque è l'elemento di peso l'elemento di misurazione del peso 60 che comunica col dispositivo di controllo del macinino per scampiare dati come ad esempio le funzioni di attivazione e interruzione del motore. Per cui secondo l'esaminatore partendo da D1 dove l'unica differenza era quella che il macinino potesse operare alternativamente in una seconda modalità per regolare il periodo di attivazione del motore elettrico in cui la fase di calibrazione avviene automaticamente rispetto a un confronto tra il peso desiderato del caffè macinato e il peso effettivamente erogato e misurato per mezzo di un dispositivo di peso separato dal macinino e secondo l'esaminatore era ovvio arrivare alla soluzione proposta nella mia rivendicazione perché nella fase del problem to solution approach una volta che ho stabilito che D1 la close ispray or art una volta che ho stabilito le differenze fra la close ispray or art e l'argomento della mia rivendicazione una volta che ho stabilito l'effetto tecnico ottenuto da tale differenza e quindi collegato all'effetto tecnico quale problema tecnico ha risolto a questo punto io mi chiedo l'esperto del ramo che è uno che sa tutto sui macinini e su controlli elettronici per dispensare le dosi dei macinini alla luce delle sue conoscenze di base alla luce di D1 che era al close ispray or art ma anche applicandoli a quello che dice D1 applicando gli insegnamenti forniti da D2 dove c'era qualche cosa di automatico fornito da un dispositivo che misurava il grano i macinati separato dal macinino e non avrei secondo il mediatore il tecnico del ramo non avrebbe avuto nessuna difficoltà a applicare a D1 gli insegnamenti di D2 di conseguenza secondo l'esaminatore secondo l'esaminatore chiunque sarebbe arrivato all'argomento rivendicato senza coinvolgere un'attività inventiva quindi sarebbe arrivato in modo ovvio ora come questa domanda di brevetto è molto recente vuoi 2023 il titolare della domanda di brevetto non ha ancora replicato a queste osservazioni dell'esaminatore però il suo compito non sarà facile perché perché io da spettatore in questo caso dico che l'esaminatore cioè concordo con quanto dice l'esaminatore perché andiamo a rivedere questa è tutta la parte della rivendicazione 1 che si riferisce agli elementi fisici presenti nel macina caffè e tutti questi elementi fisici ci sono nel documento di 1 dopodiché anche se questo qui è una rivendicazione su un dispositivo su un'apparecchiatura tutta la mia invenzione riguarda cosa fa il microprocessore quindi in realtà sarebbe più che altro una rivendicazione di metodo per regolare la quantità di caffè macinato perché tutto il succo dell'invenzione anche se sembra che non ci sia però sarebbe potuto essere in cosa fa il microprocessore però tutti gli elementi fisici del del macinino erano presenti in D1 incluso un microprocessore erano presenti in D1 queste fasi di determinare il periodo di attivazione attivare il motore elettrico e interrompere il motore elettrico erano già presenti in D1 erano già presenti in D1 queste ulteriori fasi qui in cui c'era una prima modalità per regolare il periodo di attivazione del motore elettrico l'unica cosa che non c'era era questa seconda modalità che utilizza un dispositivo separato per ricevere in modo automatico le informazioni sul peso però questa seconda caratteristica era pari pari descritto nel documento D2 e c'era un dispositivo separato che mi pesava la quantità di granuli macinati e comunicava queste informazioni al microprocessore che di conseguenza elaborava questi dati di conseguenza è abbastanza condivisibile questa conclusione dell'esaminatore che porta a dire che non c'è attività inventiva quello che resta è il requisito di novità per cui se si vuole forse non abbiamo mai parlato ma quando una domanda di brevetto riceve un rapporto di ricerca in cui l'esaminatore afferma che una certa rivendicazione supponiamo la rivendicazione 1 è in possesso del requisito di novità cioè nuova cioè c'ha un qualche cosa che la distingue da tutti i documenti tecnica nota io posso trasformare cioè chiedere la conversione della mia domanda di brevetto in domanda di modello di utilità il quale modello di utilità ha due caratteristiche fondamentali che si differenziano dal brevetto innanzitutto come avete visto questo non è richiesto il requisito di attività inventiva quindi basta che sia nuovo e io ottengo il mio modello di utilità la seconda differenza è che dura solo dieci anni anziché che dura al massimo solo dieci anni previo al rinnovo col pagamento delle tasse di mantenimento in vita del modello di utilità dura al massimo dieci anni anziché al massimo vent'anni del brevetto però in qualche modo il titolare di questa domanda di brevetto ha comunque ottenuto un qualche cosa ha ottenuto il modello di utilità ora il modello di utilità io sto parlando dell'Italia dove è presente questa questa possibilità non in tutti i paesi è possibile ottenere il modello di utilità ad esempio non in America non in Inghilterra ma non so in Francia in Germania in Spagna in Austria è presente il modello di utilità comunque sia il titolare dovrà cercare di rispondere a queste osservazioni e allo stato attuale delle cose non so come possa rimattere quello che potrà fare è vedere se ci sono altre rivendicazioni più limitate e che risolvono un problema tecnico differente da questo più specifico e che possa in qualche modo avere il requisito di attività inventiva e a questo punto passerei al secondo caso non so se avete delle domande ma forse è meglio farle tutte all'ultimo le domande il secondo caso è molto più specifico sul software intelligenza artificiale questo mentre quello prima era un caso molto recente era del 2023 questo è molto molto vecchio è del 98 addirittura e il titolo è un source coding enhancement using spectral band replication quindi un miglioramento del codice sorgente usando una replicazione a banda spettrale allora io vi faccio vedere la rivendicazione così come era stata depositata inizialmente che questa volta è abbastanza corta occupa solo questa slide ed è molto molto generica come vedrete poi in seguito dice un metodo for enhancement of a source coding system dove questo source coding system comprise un encoder che rappresenta tutte le operazioni eseguite prior to storage or transmission quindi prima dell'immagazzinamento e la trasmissione e un decoder che rappresenta tutte le operazioni eseguite dopo lo storage e la trasmissione quindi finora non ha detto altro che c'è un encoder e un decoder caratterizzato dal fatto che quindi secondo chi ha scritto la domanda di brevetto qui parte la novità dice questo at said encoder discarding frequency bands of a region assign forming a first signal quindi viene formato un primo segnale in corrispondenza questo encoder in questo corrispondenza del decoder per mezzo della trasposizione eseguita dal detto primo segnale vengono replicate le bande di frequenza del segnale originale formando un secondo segnale quindi io c'ho un primo segnale nell'encoder forma un secondo segnale nel decoder questa rivendicazione è carteggiata inoltre dal fatto che detto prima e secondo segnale formano un segnale di output in cui un bit rate reduced in cui si ottiene un bit rate reduced per una data qualità percettiva o qualità di percettiva migliorata ad un dato bit rate io non sono ferratissimo in maniera in materia però qui vedete che c'è un encoder che produce un primo segnale un decoder che produce un secondo segnale e combinando questi qui si forma un segnale di output dove c'è una certa quantità migliorata del segnale questa è la prima la rivendicazione come è stata depositata inizialmente dopo un primo esame qui lo saltiamo per andare direttamente al succo dell'invenzione dopo un primo esame il titolare della domanda del brevetto ha modificato questa prima rivendicazione e questo è il risultato come vedete ha aggiunto tantissime caratteristiche e praticamente qui dice il segnale codificato è derivato da un segnale originale e rappresenta solamente una porzione delle bande di frequenza incluse nel segnale originale in cui questo metodo comprende fornire dei campioni di sottobanda estrarre un segnale di passabanda trasportare questi campioni in cui questi campioni di sottobanda di coefficienti spettrali inclusi nel segnale di passabanda sono regolate usando eccetera eccetera combinare come vedete quindi qui c'è già stato un passaggio in cui la rivendicazione 1 è stata considerevolmente limitata alla luce delle prime osservazioni che ha fatto l'esaminatore dopodiché l'esaminatore dice il documento più vicino di 1 è questo brevetto americano fa riferimento a queste figure qui a un certo paragrafo e dice che il documento di 1 che è considerato il documento più rilevante dello stato dell'arte divulga e ripete quindi qui vedete queste faglie di providing extracting che erano già indicate qua nella rivendicazione 1 modificata e poi qui c'è transposing e transposing routing sostanzialmente è la stessa cosa adjusting combining quindi ci sono molte moltissime di tutte queste caratteristiche che sono state aggiunte alla rivendicazione 1 adesso veniamo al punto l'esaminatore dice questo brevetto americano di 1 cioè il subject method della mia rivendicazione 1 si distingue dal ciò che viene divulgato da di 1 solamente in queste due caratteristiche qui il segnale passabanda estratto nella rivendicazione 1 ha dei campioni di sottobanda da un numero predeterminato che è minore di un numero totale che rappresenta il contenuto di frequenza del codice del segnale codificato invece della generazione di segnali armonici attraverso un linear device come detto in D1 nella rivendicazione 1 questo viene eseguita questa trasposizione dei segnali sottobanda quindi è importante secondo l'esaminatore che in D1 si utilizza un dispositivo non lineare mentre invece nella rivendicazione 1 si usa un altro concetto questa trasposizione dei subband samples allora quindi qui ci sono due caratteristiche A e B l'esaminatore dice la caratteristica A è considerata essere una normale opzione di progettazione a cui la persona esperta del ramo sarebbe arrivato senza l'esercizio di alcuna attività inventiva quando è impegnato nel progetto di un decoder come è noto da D1 quindi questa caratteristica di avere un numero di campioni sottobandi che è più piccolo del numero totale dice è prassi comune per un esperto dell'arte vediamo invece la fase B che è quella che poi alla fine risulterà più interessante in D1 si usa un dispositivo non lineare il generatore cosa dice la caratteristica tecnica che risulta dalla fase di trasporre queste subband samples secondo lui è molto simile alla generazione di segnali armonici eseguiti da D1 e in più la caratteristica di trasporre o copiare un segnale di banda a segnali a frequenza maggiori per la generazione rigenerazione del segnale è noto anche dal documento di D2 quindi secondo lui non ci sarebbe attività inventiva perché la fase A è nota per ogni tecnico del ramo la fase B usa una cosa che è molto simile a D1 e in più utilizzando l'insegnamento di D2 sarebbe arrivati alla rivendicazione 1 che è indicato adesso siccome questo caso qui è molto vecchio abbiamo invece la replica allora il titolare della domanda di brevetto dice che D1 contrariamente a quello che ha detto l'esaminatore non divulga la fase di estrarre un segnale di passabanda inoltre D1 dà come input l'intero segnale al dispositivo non lineare qui c'è scritto non ma è un errore che è rimasto nella lettera che ha scritto al titolare brevetto un dispositivo non lineare di conseguenza secondo il titolare brevetto D1 non divulga la fase di trasposizione che include questa riconnessione dell'analisi delle sottobande per sintetizzare insomma mette a fuoco il fatto scusate e mentre in D1 l'intero segnale viene trasmesso in questo dispositivo non lineare e che poi viene filtrato è diverso da quello che viene fatto nella rivendicazione 1 in cui vengono analizzati questi segnali delle sottobande e secondo il titolare del brevetto non c'è relazione fra l'analisi delle sottobande e la sintesi come invece viene trattato nel documento D1 allora se noi andiamo a vedere queste frasi qui sono estratte da D1 e dice che questo trattamento non lineare praticamente permette di migliorare la qualità del segnale ricostruito quindi migliora la qualità questo è invece quello che il problema tecnico che vuole risolvere la rivendicazione 1 e anche qui si parla di migliorare la qualità rendere più alta migliorare la qualità del segnale ricodificato per cui alla fin fine il problema tecnico è sempre quello di migliorare la qualità del segnale ricostruito sia come specificamente detto da D1 sia come specificamente detto nella rivendicazione nel testo della nostra domanda quindi siccome tutte e due tendono a risolvere il problema tecnico di migliorare questo segnale ricostruito l'effetto tecnico sarà quello di trovare un'alternativa quanto descritto in D1 per ottenere una qualità migliore del segnale senza utilizzare il dispositivo non lineare di D1 quindi a volte il problema tecnico te lo costruisci una volta che ricevi il rapporto di ricerca e capisci analizzi a fondo il documento D1 cosa dici dice siccome praticamente tutte e due sia il D1 che la nostra rivendicazione 1 mirano a migliorare questo segnale alla qualità del segnale e però utilizzano due tecniche diverse l'effetto tecnico può essere questo trovare un'alternativa al metodo descritto in D1 che non utilizzi quel dispositivo non lineare ora perché è utile individuare in questo modo l'effetto tecnico perché visto che come la ferma lo stesso D1 l'utilizzo del dispositivo lineare è essenziale affinché il metodo funzioni in D1 se io nella mia rivendicazione non utilizzo il dispositivo non lineare quindi io sono nuovo mi distingo da D1 perché utilizzo un'altra tecnica e non il dispositivo lineare ora quando vado a esaminare se c'è attività inventiva oppure no con il problem to solution approach e mi chiedo il tecnico del ramo alla luce di D1 dove la caratteristica essenziale era il dispositivo lineare che ci deve essere per forza avrebbe fatto uno sforzo inventivo per arrivare alla soluzione proposta del mio metodo della rivendicazione 1 dove non c'è il dispositivo lineare allora a questo punto secondo lui c'è l'attività inventiva perché visto che è essenziale che in D1 ci sia il dispositivo non lineare ci deve essere per forza non mi può D1 suggerire una soluzione in cui non c'è D1 non c'è il dispositivo non lineare visto che è essenziale che ci sia quindi non può suggerirmi una soluzione dove non c'è il dispositivo lineare quindi non può suggerirmi la mia soluzione quindi l'esperto del ramo avrebbe sì fatto uno salto di qualità uno sforzo inventivo per passare da D1 dove era obbligatorio che ci fosse il dispositivo lineare alla mia soluzione dove non c'è il dispositivo lineare e c'è un'altra soluzione quindi la contrariamente a quanto aveva detto l'esaminatore che diceva che era era ovvio per il tecnico del ramo arrivare a questa fase di transposing di analisi delle sottobande eccetera eccetera il titolare del brevetto senza modificare ulteriormente la rivendicazione 1 ma tenendo questa che aveva già modificata nel primo passaggio ha dimostrato che c'è anche oltre ad essere nuovo c'è anche attività inventiva perché per questo che dicevamo prima D1 ha la tecnologia con un dispositivo non lineare io non ho questa e quindi per forza di cose nessuno mi può insegnare cioè D1 non mi può insegnare come ottenere una soluzione dove non c'è quello che in D1 era fondamentale quindi spesso questo effetto tecnico ecco l'abbiamo finito ecco questo effetto tecnico qui io quando ho scritto la domanda di brevetto non conoscevo D1 non ho evidenziato il fatto che io avessi usato una tecnica diversa da quella di D1 D1 l'ho conosciuto solo quando è stato proposto prospettato dall'esaminatore quindi l'effetto tecnico viene evidenziato facendo l'analisi di quali sono le differenze tra la mia rivendicazione e il documento di tecnica nota più vicina a quel punto metto a fuoco quale sono le differenze a quel punto mi chiedo quale problema risolto mi rendo conto che in questo caso era sempre lo stesso problema tecnico risolto D1 quello di migliorare la qualità del segnale quindi l'effetto tecnico era trovare un metodo alternativo a quello lì già noto in cui non utilizzavo questo dispositivo D1 non utilizzando D1 per logica conseguenza si dimostra che c'è l'attività in venti passo rapidamente all'ultimo caso e poi vediamo se ci sono delle domande questo ultimo caso è anche questo un caso molto recente domanda internazionale 2023 che corrisponde a questa domanda italiana depositata nel 2021 quindi il titolare ha prima depositato in Italia nel 2021 poi alla fine dei 12 mesi della priorità ha depositato una domanda internazionale che è stata pubblicata con questo numero qui il titolo è un metodo migliorato per valutare un evento di vibrazione l'esaminatore come prima cosa dice che ci sono tre gruppi di invenzioni distinte un primo gruppo che riguarda le rivendicazioni da 1 a 16 uno alla rivendicazione 17 uno alla rivendicazione 18 quindi sono tre potenziali invenzioni che trattano argomenti diversi siccome trattano argomenti diversi non possono essere ricondotti ad un'unica invenzione quindi secondo l'esaminatore ci sono tre invenzioni separate che verranno considerate come tre domande di bravito separate se guardiamo questa invenzione potenziale la prima invenzione potenziale dice il problema risolto può essere considerato come rilevare in modo accurato un evento vibrazionale rischioso o un evento sismico viceversa nella seconda invenzione il problema risolto potrebbe essere considerato come verificare l'installazione corretta di un dispositivo di un apparato la terza potenziale invenzione il problema risolto potrebbe essere considerato come ottimizzare il consumo di energia elettrica di un accelerometro quindi come vedete sono tre casi separati e l'esaminatore si è concentrato solo sulla prima invenzione che è coperta dalle rivendicazioni da 1 a 16 la rivendicazione 1 su cui poi si concentrerà il titolare del brevetto si riferisce a un metodo per verificare se un evento vibrazionale a intensità maggiore rispetto a una soglia di intensità predefinita TH1 che è collegata a una frequenza predefinita THF preferibilmente al fine di considerare e classificare l'evento vibrazionale come pericoloso rischioso in cui il metodo è caratterizzato dal fatto che si acquisiscono i dati rilevati da almeno un accelerometro lungo due assi Y fra loro perpendicolari si determinano i valori frequenze e intensità I di almeno una porzione di segnali derivati dai dati di accelerazione così acquisiti lungo due assi XY quando superano una soglia di intensità predefinita TH2 sulla base della frequenza F si verifica se l'intensità così determinata è superiore o meno alla soglia di intensità predefinita così identificata per stabilire così se l'evento vibrazionale dalla quale sono stati derivati detti segnali abbia intensità maggiore o minore rispetto alla soglia di intensità predefinita TH1 così identificata secondo l'esaminatore la rivendicazione 1 non è nuova perché addirittura è descritta in 7 documenti quindi ognuno di questi 7 documenti da D1 a D7 contiene tutte queste caratteristiche qui quindi non è nemmeno il caso di andare a verificare l'effetto tecnico perché l'effetto tecnico si determina solo una volta che io ho individuato le differenze tra la mia rivendicazione e i documenti di tecnica nota se non è nuovo vuol dire che non ci sono differenze quindi quello che posso fare io è abbandonare il desiderio che mi venga concesso la rivendicazione 1 e vedere se altre rivendicazioni sono invece nuove allora andando avanti la rivendicazione 3 dipende dalla rivendicazione precedente quindi dipende dalla 1 e aggiunge delle ulteriori caratteristiche caratterizzato dal fatto che si determina i valori di frequenza f e intensità i per ogni porzione di segnale derivata dai dati di accelerazione acquisiti lungo due assi y che sopra una soglia predefinita e dal fatto che si effettano le seguenti operazioni per ciascuna frequenza si identifica la soglia a densità predefinita per ciascuna intensità si verifica se l'intensità è superiore o minore alla soglia TH1 per stabilire se l'evento vibrazionale quale sono state derivate i dati segnali abbia intensità maggiore o minore per ciascuna intensità così determinata se l'intensità è superiore alla soglia di intensità predefinita così identificata per ogni frequenza f si elaborano i corrispondenti segnali in modo da portarli nel dominio della frequenza sulla base dei segnali portati nel dominio della frequenza si determina se l'evento dal quale sono derivati detti segnali è provocato o meno da un fenomeno sismico quindi l'effetto tecnico è rilevare in modo affidabile la presenza di un effetto sismico pericoloso ora ho saltato un passaggio secondo l'esaminatore la combinazione delle caratteristiche della rivendicazione dipendente 3 non è né conosciuta né resa ovvia dalla priorata disponibile quindi non è conosciuta vuol dire che è nuova ed è anche ovvia infatti secondo l'esaminatore quindi c'è un passaggio la 1 non era nemmeno nuova perché anticipata da tutti i sette documenti di 1 di 7 la 3 è nuova ma è anche in possesso del requisito di attività inventiva quindi si passa da un estremo all'altro secondo l'esaminatore nessuno dei documenti citati divulga la combinazione di determinare i valori di frequenza intensità per ogni porzione del segnale che supera una certa soglia portando successivamente i dati che hanno un'alta intensità nel dominio di frequenza al fine di identificare un evento sismico pericoloso questa è una soluzione per un rilevamento affidabile di un evento sismico pericoloso al quale la persona esperta del settore non sarebbe arrivato in modo ovvio ma solo facendo uno sforzo inventivo quindi è nuova ed è anche inventiva perché i documenti di 1 e di 7 non mi danno le strumenti le caratteristiche per dare l'imbeccata a un tecnico del ramo per risolvere questo per ottenere questo effetto tecnico cioè di rilevare in modo affidabile la presenza di un evento sismico pericoloso se noi andiamo a rivedere la rivendicazione 1 aveva queste fasi qua di acquisire i dati determinare valori di frequenza sulla base della frequenza identificare una solida intensità predefinita e verificare se l'intensità i è maggiore o minore di questa intensità predefinita nella rivendicazione 3 si stabilisce che si verifica se questa intensità è superiore o minore alla soglia predefinita per stabilire se l'evento vibrazionale dalla quale sono stati derivati i segnali abbia un'intensità maggiore o minore rispetto alla soglia predefinita e poi aggiungio che non era nella rivendicazione 1 per ogni intensità i così determinata se l'intensità è superiore alla soglia si elaborano i corrispondenti segnali in modo da portarli al dominio di frequenza se invece ovviamente non sono questo si fa solo se l'intensità è superiore alla soglia se non è superiore alla soglia non vengono elaborati questi segnali corrispondenti e sulla base dei segnali portati nel dominio di frequenza si determina se l'evento dal quale sono derivati i segnali è provocato o meno da un fenomeno sismico quindi queste parti qui sono state aggiunte dettagliate rispetto alla rivendicazione 1 e questi sono gli elementi che fanno sì che la rivendicazione 3 si differenzi da ognuno di quei documenti di 1 di 7 e avendo individuato questa differenza l'effetto tecnico è quello di rilevare in modo affidabile la presenza di un evento sismico pericoloso e nessuno di questi documenti da di 1 di 7 suggeriva come risolvere questo problema tecnico e quindi come ottenere questo effetto tecnico qui allora quindi noi abbiamo visto tre casi questo qui in cui la rivendicazione 1 non era nemmeno nuova e la 3 è invece nuova ed anche inventiva quindi il brevetto informatale deve essere concesso nel caso 2 quello del coder e decoder abbiamo visto che questo qui il discorso l'effetto tecnico aveva messo in luce il fatto che in D1 c'era un dispositivo non lineare che era essenziale per questo caso qui e che mi risolverà un certo problema io nel mio domani brevetto risolvo lo stesso tecnico in un modo alternativo quindi l'effetto tecnico deve trovare un'alternativa a quanto aveva scritto in D1 senza utilizzare quella tecnologia di D1 quindi è un modo un po' diverso di risolvere il problema dell'attività inventiva però effettivamente se non mi veniva se l'A era essenziale all'utilizzo di D1 e io non lo utilizzo è chiaro che D1 non mi può insegnare non mi può dare l'imbeccata per risolvere il mio problema quindi devo per forza di cose fare uno sforzo inventivo nel primo caso che era quello del macinino abbiamo visto che il documento citato della private che descrive praticamente tutto se non una piccola parte che era riferita a quella seconda modalità in cui lavorava il macinino che però era suggerita dal documento D2 quindi dalla combinazione dei segnamenti di D1 e D2 si arrivava secondo l'esaminatore e penso che abbia ragione a dimostrare che non c'è attività inventiva allora a questo punto è l'una io avrei finito e interrompo la condivisione e vi chiedo se avete qualche domanda dubbio qualche cosa che va chiarita queste slide come quelle delle due lezioni precedenti penso che verranno messe a disposizione da Sardegna Ricerche vedo Sandra che ci ha raggiunto che fa scena di sì con la testa quindi saranno condivise ciao questa lezione di oggi forse era un po' più ostica ma quando si parla di effetto tecnico problema tecnico da risolvere bisogna fare proprio questo compitino che è stabilito dal problem to solution approach in cui io devo vedere quali sono le differenze tra gli elementi presenti nella mia rivendicazione e quelli presenti diciamo in D1 il documento di tecnica più vicino e magari io non ce l'ho scritto già nel mio testo perché io non conosco sempre i documenti che mi cita l'esaminatore a volte sì a volte no però se li conoscevo già ho già messo in evidenza le differenze rispetto al documento che mi ha notato se no non avevo scritto nemmeno le domande il problema è quando ricevo il rapporto di ricerca dall'esaminatore c'è un documento che non conoscevo e l'esaminatore dice ah no no era tutto ovvio non c'è nessuna attività inventiva anche perché l'esaminatore è un po' come l'uovo di colombo sa la soluzione a cui sono arrivato e dice questo è detto in D1 questo è in D2 e cosa vuoi era tutto ovvio non c'è nessuna attività inventiva quindi io che non conoscevo D1 devo mettere lì e fare il compitino la mia rivendicazione ha questi 10 elementi bene il D1 ce l'ha tutti e 10 no ce ne ha solo 9 allora la mia differenza è in quel decimo elemento a cosa mi è servito aggiungere la mia rivendicazione quel decimo elemento quale effetto tecnico mi ha prodotto e quindi devo in qualche modo analizzare D1 come nel caso quello della soluzione alternativa io vedo che D1 mi dice è essenziale che ci sia questo documento questa caratteristica qui benissimo io non ce l'ho trovo una soluzione alternativa quindi tu non mi puoi suggerire qual è la mia soluzione perché io non uso la tua e ne uso un'altra e la tua tutta la tua domanda brevetta è incentrata sull'utilizzo di quella caratteristica lì che io non uso quindi non ci può essere attività inventiva così come l'ultimo caso quello dell'evento sismico la rivendicazione 1 era anticipata addirittura a 7 documenti cioè un disastro la rivendicazione 3 era nuova quindi vuol dire che io aggiungendo quegli elementi dell'analisi di certi valori ho fatto sì che fosse sia nuova che inventiva quindi caso per caso bisogna mettersi lì e analizzare le mie rivendicazioni e i documenti di tecnica nota spiegando all'esaminatore passo per passo come se fosse cioè noi pensiamo che l'esaminatore sia un dio in terra lui fa il suo lavoro lo sa lo sa benissimo di tutto ma non ne sa tante come noi della nostra invenzione quindi siamo noi che magari su certi passaggi abbiamo tirato un po' via non l'abbiamo spiegato bene e lì dovevamo dire no guarda qui si fa A, B e C là assolutamente c'è solo A non c'è scritto B e C quindi su questo si ragiona e piano piano ci si costruisce nel proprio introsoluzione approccio quello che è l'effetto tecnico che è lo scopo io studiando la private e di conseguenza se ha questo effetto tecnico collegato al 100% al problema tecnico se il tecnico del ramo con le sue conoscenze di base avrebbe risolto in modo ovvio questo problema tecnico quindi è dura ma bisogna fare quel compitino di fare confronto dei documenti di D1 e cercare di cogliere tutte le differenze che l'esaminatore a volte non ha colto io non vedo domande forse no non le vedo neanche io sono morti forse sono stato troppo pesante non lo so però ristudiatevi questi tre casi piano piano e capirete magari certe volte uno dice ma no ma non è non è differente è uguale no c'è sempre quel dettaglio che fa sì che magari una domanda di ruedito ti passi da essere bocciata a essere concessa questo è un tema anche nostro cioè nel senso che spesso i nostri utenti arrivano con delle certezze o delle incertezze e poi diciamola pure adesso non perché sei tu presente sta anche diciamo nella nella propria diciamo nell'esperto a cui ci si rivolge fare questo questa operazione che può non risultare semplice una domanda che che spesso ho visto fare anche gli esaminatori era diciamo in fase di ricerca in fase di esame quando è che un esaminatore smette di cercare no perché alla fine allora io la risposta che ci hanno dato gli esaminatori dell'ufficio europeo è che era semplicemente una questione di diciamo il time consuming quindi diciamo io ho esaminatore inizio a cercare ho ovviamente a disposizione una diciamo tante banche dati più di quante magari ne posso avere io come stagione ricerca o il ricercatore e diciamo mi do un tempo non so mi do un giorno e mezzo perché poi ho tutte le pratiche da esaminare quindi se io in quel giorno e mezzo sono riuscito a ottenere un risultato bene se non ci sono riuscito o comunque utilizzo quello che ho trovato e questo a volte spiega anche diciamo la superficialità o comunque il non ha curato esame che un esaminatore lo diceva poi la stessa dovrebbe dovrebbe fare quindi è un po' è un equilibrio insomma di giochi e l'opera di convincimento è un'opera che deve fare l'esaminatore insomma e il mandatario diciamo sulla base degli elementi che ha acquisito confermo al 100% quello che ha detto Sandra e aggiungo spesso l'esaminatore dopo quel giorno e mezzo che è imposto come tempo limite per questo caso ha analizzato bene la rivendicazione 1 e le rivendicazioni dalla 2 alla 10 dipendono dalla 1 e quasi sempre lui ti dice le rivendicazioni dalla 2 alla 10 non contengono nulla di inventivo risolve la faccenda in quattro righe e invece proprio forse l'invenzione sta proprio lì anche perché io da mandatario cosa faccio la prima rivendicazione sono sempre combattuto da una parte so che l'esaminatore analizza a fondo la rivendicazione 1 dall'altra non la voglio fare troppo limitata allora cerco sempre di ampliare l'ambito di protezione della rivendicazione 1 in modo che se per caso mi va bene c'è una protezione più ampia però so che se è troppo ampia l'esaminatore me la boccia subito e non ha più tanto tempo per esaminare metti la rivendicazione 3 che era il nocciolo della mia invenzione quindi quando io scrivo nella rivendicazione ne devo sempre usare un giusto equilibrio per far sì che contenga quello che vorrei che mi venisse protetto poco poco più ma non troppo perché se no l'esaminatore mi boccia e poi non mi va a vedere quelle che mi interessano veramente tanto per dirvi il giorno e mezzo io sabato e domenica scorsa ho lavorato tipo 16 più 16 32 ore perché c'avevo una scadenza per rispondere a un'opposizione l'opposizione è quando l'ufficio progetto europeo ha già concesso il progetto quindi l'esaminatore ha già fatto il suo lavoro tutti belli e contenti devi dimostrare che l'esaminatore si è perso qualche passaggio e c'hai una data entro nove mesi dalla data di concessione per dire guarda l'esaminatore tu l'hai concesso ma non hai considerato questo e quest'altro quindi devi fare il lavoro che supera il lavoro fatto dal esaminatore cioè è difficilissimo non sempre ci riesci a trovare uno spiraglio in cui l'esaminatore non è andato a fondo quindi io mi sono guardato duemila dico duemila documenti di possibile arte nota cioè di sicuro di arte nota di possibile arte nota rilevante che l'esaminatore non aveva trovato per vedere se fra le righe perché poi quello che ti serve non è mai nel titolo volvere più assunto è a colonna 7 tra riga 12 e 14 con riferimento alla figura 2 dove c'è un tondino che è qualcosa che ti interessa a te quindi mi sono guardato tutto sabato e domenica per la gioia di mia moglie che mi ha detto ma oggi stiamo in casa a guardare i brevetti ma con estrema soddisfazione dopo tutto sta mole di lavoro hanno trovato due documenti molto rilevanti che l'esaminatore non aveva trovato e lì ho messo a fuoco delle differenze quindi facendo quel compitino lì del problem to solution approach però devi averci questi documenti e non è che ti piovano per caso quindi a volte per concludere il discorso che a volte l'esaminatore fa una cosa superficiale perché dopo un giorno e mezzo ha finito il suo tempo e quindi ha finito la sua ricerca io mandatario ho il compito in certi casi di trovarlo un documento in più e ti metti lì e ci metti anche più di un giorno e mezzo va bene vedo che non ci sono domande ci vedremo allora ci vedremo poi comunque come al solito la documentazione diciamo sarà resa disponibile ai partecipanti poi se ci sono delle domande diciamo che vengono a volte le domande vengono sempre dopo e naturalmente noi siamo qui io scusate sono potute intervenire solo adesso le colleghe sono sono Aguilarza io ero in una riunione quindi mi scuso per non aver potuto aprire i lavori ma tanto ormai siete rodati per va bene allora vi saluto vi auguro buon lavoro a tutti ok io ringrazio a te ringrazio Raimondo che ci fa sempre l'assistenza tecnica ringrazio tutti i partecipanti abbiamo altri appuntamenti la settimana prossima ci sarà la quarta ultima lezione la quarta ultima lezione poi diciamo se ci fossero appunto degli elementi da approfondire da chiarire degli esercizi particolari siccome l'ultima lezione sarà molto gradito se prima nei prossimi giorni verrà fatta qualche particolare richiesta da approfondire magari anche se è già stato affrontato ma rivederlo in modo che togliere eventuali ok va bene allora grazie ingegner Contessini grazie a Raimondo grazie a tutti ciao Sandra ciao a presto ciao Raimondo grazie scusa ritardo tanto la siete cavata l'assoli tranquillamente grazie a tutti